Possiamo dire che se ci può essere una rivoluzione industriale 4.0, bisogna sostituire tutti i fattori produttivi. Se nell'industria tradizionale uno dei fattori produttivi fondamentali era il sistema di trasporti, le ferrovie piuttosto che i transatlantici, la fibra ottica è oggi il sistema di trasporto dell'industria 4.0. Senza la fibra ottica, quindi senza una rete ultra broadband diffusa e capillare su tutto il territorio, non è possibile parlare di produzione 4.0. L'Italia purtroppo oggi sappiamo è al penultimo posto dell'Unione Europea per quanto riguarda l'economia digitale, buona parte di questo risultato negativo è determinato dalla sua retratezza nei termini di un'infrastruttura in fibra ottica ultra broadband. Open Fibre, che è una società al 50% di Enel, al 50% di Cassa Deposito e Prestiti, investirà nei prossimi 5 anni in Italia 4 miliardi e mezzo di euro proprio per colmare questo divario e per risolvere questo ritardo all'Italia, facendo diventare anzi un'eccellenza velocemente del nostro paese. Grazie. Grazie.